Il laboratorio teatrale del liceo classico Carlo Troia di Andrea anche quest'anno ha voluto chiudere l'anno scolastico 2015-2016 con uno spettacolo dal titolo Lisi Strata, le Ateniesi e le Ecclesi Azuse. Bravissimi sono stati gli studenti che hanno partecipato alla realizzazione dello spettacolo sotto la direzione della professoressa Francesca Notarpietro. Inoltre hanno contribuito Gianluigi Bersito che ha curato la rappresentazione e nunziana di nunno le coreografie. Grande entusiasmo e apprezzamento dal dirigente scolastico professor Carlo Zingarelli. Ponete tutte le mani nel corpo e nel corpo della porta e ripetete qualche dito. D'ora in poi nessuno né amante né marito potrà venirmi incontro pronto a... Ai, 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 mi si distrattamente rimano le ginocchia. E me ne starò a casa e non mi lascerò sedurre. E me ne starò a casa e non mi lascerò sedurre. E se mi fa violenza gliela darò brutto muso e senza muovermi. E se mi fa violenza gliela darò brutto muso e senza muovermi. Detto ciò, se qualcuno dovesse trasgredire che la coppa si riempia d'acqua. Ora, beremo tutto da qui. Lo giurate? Sì, per Zeris! Ma, dove scappate? Stornate indietro! Io devo andare a casa. Ho della lana nuova e me le spassano le tante. Ma qualità? Ma cosa indietro venite? Povera me, mi nasce qui. Mi nasce qui? Ma ieri non mi nasce. Non ci si. Ma, mi mi sono a vuoto. E mi pare le tante. Buffona il vatolelbo della Dea che finge incinta. Disgraziate! Morite dalla voglia più dei vostri stessi mariti. Tornate indietro perché... Per piacere stiamo unite. Vinceremo noi qui e le altre sull'atropolo. Volete sapere cosa sta succedendo sull'atropolo? Sì! Allora, quando le rondinelle si acquateranno tutte in un solo luogo e si terranno alla larga dei palmi, sarà la fine di un mare. Ecco, chi è? Vedo un uomo che mi sa chiede. E' un pazzo. Chi è? Sino è la Frodite che l'ha fatta impazzire. Io la stelle tiro un cifro continuo così, sei sulla strada giusta. Cazzo. Qualcuno lo conosce. No. Perché chi è? Io lo conosco e mio marito cinesia per Zeus. Mirina, non è tutto da te. Baccialo. Sì. Ma puoi non baciarlo. No. Insomma, fatti fare qualsiasi cosa. Qualsiasi? No. Ricordati del giuramento. Sto. Tranquilla, so io cosa fare. Allora, con te ci resto io che lo prendiamo per il naso. Sì. Voi altre, andate. Oh, povero me. Che spasso, vi sembra di essere appesso una tortura. Chi è così che cerca di superare il vostro guardia? Io. Un uomo. Ah, lo vedi, no? Fuori dai piedi. E chi sei tu per mandarmi fuori dai piedi? È la sentinella. Ah, ma mi chiami, Mirina? Sì, sta vedendo. Oh. Atene è nata per comandare. Atene porta la libertà ai greci. La dea la protegge. E stavolta li spaziamo via sul serio a quei bastardi degli spartani. Quanto dista da qui Sparta? Polema. Due giornate di marcia. Così ho sentito dire. Allora, dopo domani, faremo il bagno nell'Europa. Ma quanto ho sentito dire, lì le ragazze fanno il bagno rubro. Gli spartani hanno l'ossessione per la ginnastica. Anche alle donne la fanno male. L'importante è che torniamo in tempo pur di sorvegliare le raccoglitrici di olive. Quelle, per Dio, se non c'è il padrone a controllarle, si fregano tutto. Uomini di Atene, gli dèi sono con noi. I sacrifici hanno dato a presaggi favorevoli. E ora, i nemici sono stati individuati. stanno attraversando il bosco. Noi li aspetteremo dall'altra parte. Stavolta non ci scappano. Tutte sciocchezze. Speriamo. E se muori, qui, oggi, in questo paese lontano, senza, senza rivedere nessuno. In questo paese lontano,